L'innovazione, bussole del cambiamento del sistema sanitario nazionale, prende il via a Cernobbio la Winter School 2024, evento di punta della programmazione annuale di motore sanità. Una a due giorni che vede riuniti nell'esclusiva location di Villa Erba, sulle rive del lago di Como, oltre 200 relatori, per un vero e proprio laboratorio di idee che punta a ridisegnare il futuro della sanità italiana in chiave sostenibile. L'obiettivo intanto è di fare chiarezza sul fatto che noi non siamo allo sfascio e sul fatto che vi siano possibilità e soluzioni anche dal punto di vista della sostenibilità del sistema. Pensiamo alla parte comprimibile, per esempio, della spesa della pubblica amministrazione, su cui potremmo ricavare un bel po' di soldi per finanziare il servizio sanitario nazionale. C'è però la necessità di nuovi modelli organizzativi, di rivedere lo stesso servizio sanitario nazionale, di una maggior cooperazione tra pubblico e privato e soprattutto di utilizzare la tecnologia e l'innovazione nella sua complessità, tecnologia informatica e biologica, che cambierà il futuro della sanità nel nostro paese, rendendo sempre accessibile e migliore il servizio sanitario nazionale stesso. Punto di forza della Winter School di Motore Sanità è la capacità di fare rete tra istituzioni, manager e amministratori sanitari pubblici e privati, medici, infermieri, operatori, società scientifiche, ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati e pazienti. Questi sono luoghi in cui si discute con il cuore in mano, in maniera aperta, partendo però dai dati. Noi abbiamo presentato i dati OXE internazionali stamattina perché le mezze verità non servono a nessuno. I dati sono chiari e su quello si possono trovare soluzioni. Ecco che incontri di questo tipo rappresentano il momento in più per poter dare in qualche maniera nuova vigore e nuova forza al servizio sanitario nazionale del nostro paese.